E adesso la sommelier che tanti attendono, che ci parlerà, ci racconsigli su come degustare il vino Anna Maria Acunso. Oggi per quanto riguarda i nostri vini e vitigni mi piacerebbe parlare della zona dell'Irpinia, quindi ci troviamo in Campania questa volta. L'Irpinia è una zona molto fertile per quanto riguarda la coltivazione della viticoltura. E ci sono dei vini, si producono dei vini molto molto importanti a livello nazionale e addirittura mondiale. I tre vitigni autoctoni che troviamo in questa regione sono il Fiano di Avellino, il Greco di Tufo e il Taurasi. I primi due sono dei vini bianchi, il Taurasi e il Rosso. E proprio di questo vitigno vorrei parlare oggi perché il Taurasi è un rosso intenso di un bel color rubino ed è di origine antichissima. E' prodotto con un vitigno autoctono, laglianico, difficile da coltivare e vinificare. Il primo documento storico risale al 1167. Virginio e Plinio ne erano grandi consumatori. Quindi questo vino risale veramente a tempi antichissimi. Se andiamo a degustare il Taurasi troviamo tantissimi sentori, tra i quali la mora, il lampone, la camomilla, il pepe, i fichi, il cuoio, il fumè e delle erbe aromatiche. Lo possiamo abbinare sicuramente, visto che è un vino molto strutturato, con dei secondi strutturati. Quindi con la matriciana, con il filetto di manzo, con ad esempio dei formaggi stagionati, con tutto ciò che è anche persistente in bocca. Quindi diciamo che il Taurasi va in qualche modo a sgrassare la nostra bocca e il nostro palato. Quindi diciamo che con questo è un ottimo abbinamento. Con questo è tutto e ci vediamo la prossima volta. Un abbraccio!